Ben ritrovati con Decoder, le nostre montagne stanno diventando un Luna Park, un parco di divertimento. Questo è quanto afferma Michele Corti sul sito www.ruralpini.it. Michele Corti questa sera è proprio nei nostri studi e lo salutiamo. Buonasera Corti. Ed è con noi anche Paolo Locatelli di Noi Alpi. Buonasera Locatelli. Buonasera. Diamo il benvenuto anche a Paolo Valotti del CAI, in particolare del coordinamento dell'Unione Bergamasca-CAI. Buonasera Valotti. Buonasera a tutti. E infine salutiamo sempre buoni Walter, Walter sempre buoni, presidente degli impianti di Lizzola. Buonasera a tutti. Questi i nostri ospiti in studio, ma partiamo da Michele Corti. Cosa voleva sostenere con questo articolo? Innanzitutto è bene precisare che la polemica sulle Alpi, parco giochi, Luna Park, resale addirittura all'Ottocento. Quindi non c'è niente di nuovo. Diciamo che ci sono nuove forse certe forme che adesso andiamo un po' a considerare. È nata quando nell'Ottocento gli inglesi hanno cominciato l'alpinismo. Venivano visti come dei matti, i montanari allora facevano già fatica notevole, non c'erano mezzi meccanici. Quando vedevano questi che facevano tanta fatica per andare in cima a delle rocce, li consideravano un po' dei matti. E così anche i loro contemporanei che vedevano un po' questo alpinismo come una mania. Da qui l'espressione le Alpi, parco giochi d'Europa. In tempi più recenti le cose sono cambiate perché al di là dell'alpinismo, che era praticato da un'elite, da poche persone, e che non usavano nemmeno certi mezzi artificiali che poi sarebbero entrati nella storia dell'alpinismo, le cose sono molto cambiate perché oggi ci sono masse turistiche che frequentano le Alpi e soprattutto negli ultimi anni sono entrati in tutta una serie di attività cosiddette sportive che prevedono anche l'utilizzo di mezzi motorizzati. Una cosa che è assolutamente in controtendenza con quanto si va predicando in ambito sociale la sostenibilità dei trasporti nelle città. In qualsiasi modo si induce le persone a usare la bicicletta, come faccio anch'io, e poi si arriva in montagna e gli si propone invece di fare il giro in elicottero, la gita in quad, e quindi diciamo, innanzitutto c'è questo aspetto poco educativo. Poi entreremo proprio nel dettaglio di quanto ci sta dicendo, ma continuiamo con gli altri ospiti. Paolo Catelli, come dovremmo interpretare la montagna? Io faccio anch'io una premessa, innanzitutto ringrazio Corti di aver lanciato di nuovo la discussione su questa tematica che è sempre attuale. In quest'estate con Davide Sapienza stiamo girando nei vari paesi per parlare dei diritti della natura. Questo cosa vuol dire come premessa? Che finora il diritto concepisce la natura come un oggetto, come una schiava a servizio delle esigenze dell'uomo, soprattutto economiche, di vantaggio economico, di guadagno di profitto, con gli eccessi speculativi che sappiamo. È tempo di porre la natura al centro della giurisprudenza, quindi delle normative, delle leggi, dell'etica, del comportamento sia individuale che sociale e rispettarne il funzionamento. Questo vuol dire che si può creare anche occupazione, si può creare indotto, si può far vivere bene gli esseri umani in modo dignitoso e garantendone anche una qualità di vita migliore di quella che stiamo vivendo, cambiando prospettiva, non più puntando come prima cosa il guadagno, l'economia, la speculazione, ma mettendo al centro la natura. Poi gli esempi concreti li vediamo, ma questo serve come premessa per capire su come bisogna, secondo me, affrontare il tema. Paolo Valotti, che cos'è la montagna oggi? Io credo questo che il CAI ha una grande responsabilità sull'avere avviato quello che è stato definito il gioco delle Alpi, visto che dal 1863 comunque si propone di promuovere la conoscenza, lo studio, la frequentazione e la tutela delle montagne. Credo che se dopo 150 anni, visto che l'anno prossimo il CAI compirà il 150esimo anniversario, questa realtà associativa ancora è presente, credo sia ancora attiva, l'opera per far sì che la montagna viva della gente che in montagna ci vive tutti i giorni, credo che questo sia un risultato, una conferma che dopo 150 anni la funzione della montagna è importante, pur con le nuove sensibilità anche ambientali e ecologiche, ma che giustamente devono guardare in primis a quelli che sono appunto gli abitanti che vivono di montagna in montagna. Walter Semperboni vive a Lizzola, come vede e come commenta? Quanto ha sentito il Senato d'Ora? Ma direi che proprio perché vivo a Lizzola 365 giorni l'anno so com'è la montagna e come si deve rispettare, io credo che questo Luna Park che tanto è stato discusso non esista, perché vogliamo solamente vivere nel nostro paese dignitosamente senza assolutamente rovinare l'ambiente, per noi l'ambiente è una cosa principale ma più su ci sta l'uomo, secondo me bisogna cominciare a ragionare sul come deve vivere l'uomo e poi arriva anche l'ambiente, sicuramente l'ambiente non è da lasciare perdere, ma non è da porre in cima ai progetti futuri. Prima di prendere in esame i singoli punti affrontati nell'articolo di Michele Corti, chiedo a Corti e Locatelli se hanno eventualmente qualcosa da aggiungere a quanto ha detto sempre Buoni, se no procediamo. Allora Corti parla di voli in elicottero che sembrano quasi delle giostre di Gardaland che permettono agli escursionisti di salire rapidamente in quota, è giusto quanto sto dicendo, più o meno dice questo? Sì, le polemiche sull'uso dell'elicottero sulle Alpi non sono certo nuove, è chiaro che la cosa diventa più grave quando viene usato in inverno su delle cime molto elevate per una pratica di sci alpinismo poco sostenibile, però anche questi voli brevi che vengono proposti come escursioni, giro della Presolana e persino quelli che sono stati proposti durante le sagre ferragostane per la salita ai rifugi, per vedere la valle dall'alto, anche qui ritorniamo al discorso di una fortissima contraddizione con tutto quanto ci si sta sforzando di recuperare emissioni, di ridurre il consumo di tutti i motori, di ridurre i consumi energetici dell'abitazione e poi allarghiamo l'utilizzo di questi mezzi che consumano molto i carburanti. Ovvio che l'elicottero, ho precisato bene che non sono contro i mezzi meccanici in assoluto, non siamo per dire in montagna dovrete tutti tornare col mulo, in alcune situazioni sono indispensabili, ma sono indispensabili per ragione di lavoro, l'elicottero anzi in alcuni casi fa anche risparmiare energia eccetera perché riduce i tempi, trasporta facilmente i materiali, se viene usato come puro divertimento, come viene proprio proposto da chi organizza questi servizi, se viene proposto come una pura emozione, una volta l'emozione era sufficiente ad andare sulle giostre, oggi si fa qualcosa per avere la stessa emozione, abbiamo sollevato la soglia di questa nostra emozionalità in modo esagerato, per ottenere queste emozioni dobbiamo fare qualcosa che richiede un sacco di energia, che richiede l'uso di tecnologie e quindi andiamo assolutamente in contraddizione con quello sforzo tremendo che anche ci stanno quasi imponendo per risparmiare energia su altri fronti. Quindi non è un no a priori nei confronti dell'utilizzo dell'elicottero ma semplicemente a... Assolutamente, cioè l'elicottero per il rifornimento dei rifugi, per la manutenzione di impianti, linee idroelettriche, bacini idroelettrici, gli stessi alpeggiatori con i quali io lavoro trasportano anche i formaggi in alpeggio. È chiaro che voglio dire anche, l'ho scritto nell'articolo, il vero montanaro sa integrare con buon senso le due cose, sa usare la moto ma al tempo stesso molti nostri alpeggiatori hanno ancora il loro bravo mulo e il loro bravo cavallo e riescono a capire quando è opportuno usare un mezzo piuttosto che l'altro. Questa integrazione fa sì che minimizza quelli che sono gli impatti, i consumi. Invece un uso proposto come puro modo per scoprire una montagna dall'alto che diventa una specie di cinema, perché nel mio ragionamento stavo contestando questa trasformazione della montagna in qualcosa di virtuale. Ecco perché ho messo dentro anche la cascata illuminata. E poi ne parliamo. Ma rimaniamo sulla questione dell'elicottero. Locatelli vuole aggiungere qualcosa? Beh, concordo con quello che dice Corti. La parola chiave secondo me qui è buon senso. Se serve per dare sostegno all'attività economica del territorio, di quelli che ci lavorano sulla montagna, va benissimo. Il discorso di inventare nuove forme di turismo che vanno invece ad alterare questo equilibrio che c'è comunque stato finora, per creare delle cose che sono insostenibili, dipende se generano reddito o se lo generano, lo generano per pochi, privilegiate a danno anche del disagio di molti, su questo mi trovo assolutamente in disaccordo, anche perché ci sono forme di turismo che sulla montagna si possono copiare anche dalle buone pratiche che da noi non vengono copiate e vengono copiate solo quelle peggiori. Quindi l'idea è va bene per chi ci lavora, per il buon senso, ma il resto secondo me non è a considerare. E veniamo a Valotti. Il CAI ha sempre proposto le attività in montagna con l'idea di montagna per tutti, questo vuol dire che assolutamente non volesse una realtà, un'associazione che promuove una visione elitaria, esclusiva per pochi, anche se è vero che quando si parla magari di alpinisti che vengono associati al CAI, gli alpinisti sono effettivamente poche persone, però queste poche persone hanno anche, credo, una valenza simbolica di promuovere la montagna, non tanto a livello tecnico, ma anche come significato di impegno, di sforzo, tant'è vero che possiamo dire le metafore che si usano simbolicamente, prese proprio dalla montagna, prese proprio da quello che è l'impegno duro e la fatica per raggiungere una meta, una vetta, è proprio l'accordata e la scalata, questo lo sentiamo in tante attività, questo per dire il loro simbolico, ma il CAI cerca di promuovere un'attività per tutti, di cui oggi la grande fruizione è data certamente dal mondo dell'escursionismo in tutte le sue forme, anche quelle più nuove, anche di quelle più sportive, mi viene in mente, visto che parliamo in Bergamasqua, dello Skyrani con la roba di Skyredo, tantissime altre belle manifestazioni di questo tipo qui. Per quanto riguarda anche l'uso dell'elicottero, io colgo da quello che è stato detto la parola buonsenso, buonsenso vuol dire valutare le situazioni, le condizioni di dove si usano certi mezzi e per buonsenso faccio un esempio, se è vero che il porre l'attenzione o l'accento sul fatto che si usi l'elicottero per fare il giro turistico può suscitare qualche preoccupazione, anche è vero che se in proporzione la gente conoscesse cos'è il lavoro fatto in montagna attraverso l'elicottero che rappresenta il 99,9% dell'uso dell'elicottero e lo 0,01% con i voli turistici direi che qui ci sta una proporzione, un buonsenso che riporta nella giusta visione quello che è l'uso dell'elicottero per scopo turistico, per cui se la gente conoscesse quanto quotidianamente sono usati gli elicotteri per lavorare come mezzo di trasporto in montagna direi che coglierebbe subito la differenza di cos'è usare l'elicottero come mezzo di trasporto piuttosto che come mezzo ludico fino a se stesso. Valtre, sempre buoni? Esatto, vorrei rifarmi alle parole di Valotti. L'uso dell'elicottero smoderato in montagna specialmente nelle nostre montagne non esiste. Esiste l'uso dell'elicottero per lavorare, per portare anche gente disabile ai rifugi, perché io credo che qualcuno non possa nemmeno arrivare in montagna e quindi è giusto fargli vivere la montagna anche alle persone che non possono viverla per vari handicap. L'uso dell'elicottero da noi è usato esclusivamente per i rifugi, per i lavori e se si deve andare a prendere le persone che si sono fatte male in montagna. Assolutamente non c'è un uso spropositato dell'elicottero, quindi non vedo come si possano fare certe affermazioni. Locatelli? No, mi chiedo di cosa stiamo parlando, se l'elicottero non è usato per i fini turistici allora siamo tutti d'accordo. Se però questo vuol dire iniziare a usare l'elicottero per i fini turistici, io non sono d'accordo. Caro Locatelli, del domani non vi è certezza, fino ad ora l'elicottero non è usato nelle nostre valli a fini ludici, a fini giocherelloni, a fini di Luna Park, nelle nostre valli. Si vede che voi magari avete altre vallate da dire, fatti i nomi. Da noi l'elicottero non è usato assolutamente, moderatamente, è usato quando serve e non per fini ludici. Corti, vuole aggiungere qualcosa, altrimenti c'è la pubblicità? In Alta Varseliana, come ripeto, durante le feste di Ferragosto sono state fatte diverse iniziative che erano un uso turistico dell'elicottero, la Proloco di Ardesio reclamizzava questi giri in elicottero, quindi non mi sembra che possa essere sostenuta. Signor Corti, 15 giorni all'anno non vuol dire che ne mancano ancora 300 e passa, giusto? Non vedo il problema, i 15 giorni, se la Proloco di Ardesio ha deciso di usare l'elicottero, non vedo il problema, cioè non esiste proprio il problema. Secondo me c'è qualcuno che il cervello l'ha lasciato in un ripostino. Allora, ci troviamo un secondo, per la pubblicità eviterei di fare magari, di lanciare affermazioni anche personali. Torniamo subito. Qualcuno. Rieccoci in onda, parlavamo dell'utilizzo dell'elicottero in montagna, Michele Corti vuole replicare, vuole continuare? Ribadisco che non ho nulla in contrario all'uso dell'elicottero in montagna che a volte anzi fa risparmiare impatti sull'ambiente, magari evitando di costruire delle strade dove sarebbe molto impegnativo, come in termini di opere d'arte da realizzare. Quindi, anzi, può anche essere ecologico l'uso dell'elicottero, se fatto con buon senso. Qui si stava discutendo sull'elicottero usato come mezzo di divertimento per proporre dei giri turistici, quindi un uso puramente ludico. E su quello si diceva, sarà anche un uso che in termini quantitativi, sulle ore di volo incide poco, però è qualcosa che va assolutamente in contraddizione con tutti quei messaggi che si cerca a dare al turista, al residente in montagna, che vanno in tutto in un altro senso, di usare i mezzi motorizzati, di consumare le energie non rinnovabili nel modo più parco e sobrio possibile. Invece Valotti diceva che forse l'utilizzo dell'elicottero per questi giri è una minima parte di quello che si fa in montagna tutto l'anno. Il principio del rispetto e delle veramente accresciute sensibilità ambientali direi che oggi è sotto gli occhi di tutti. Un esempio per dire che vent'anni fa nessuno faceva la raccolta differenziata dei rifiuti, oggi la fanno tutti, dal montanaro al cittadino e a chiunque ha a cuore l'ambiente. Visto anche la proporzione dell'impatto tra un lavoro fatto con il mezzo dell'elicottero che invito chi volesse informarsi a conoscere cos'è la proporzione del lavoro quotidiano che gli elicotteri fanno nelle nostre valli rispetto a quello che può essere un episodio per uso turistico sul quale mi permetto di mettere a fuoco chi è la gente che utilizza l'elicottero a scopo turistico. Semper Boni ha anche detto e questo è vero, a volte ci sale sull'elicottero, a volte il disabile, a volte la persona che non può più andare in montagna e che a volte diventa l'ultimo sguardo dall'alto per quello che è una realtà che magari ha sempre amato, ha sempre frequentato per tutta una vita. Locatelli vuole aggiungere qualcosa? Sì, non vorrei che il discorso dei disabili fosse però strumentalizzato per questo film. Ho parlato con disabili che dicono io sono contro questa cosa, allora per chi parlate, per chi state parlando? Prima cosa, posso finire? Semper Boni che ci sono già stato scoperto. Una seconda cosa, se uno ha un orto ed è tenuto bene e vede che comincia a crescere la gramigna, anche se in proporzione è minima, la strappi, la tiri fuori, ok? Secondo me questo modo di usare l'elicottero è gramigna, lo si deve togliere, perché io quando vado in montagna e arrivo a un rifugio, vedo l'imprenditore che scende dall'elicottero e fa lo sbruffone e poi fa il giro di là, a me personalmente dà fastidio. Se a te Semper Boni ti porta economia, io credo che c'è altro modo di creare economia e non solo per il divertimento di pochi che hanno soldi e possono spendersi per dar fastidio agli altri, punto. Se tu sei d'accordo te lo tieni, io ho questa idea. Posso replicarti visto che mi replica. Io invece, tu mi fai l'esempio di un imprenditore, di vari imprenditori che usano, ecco, io invece ti faccio un esempio più calzante. Proprio settimana scorsa al rifugio Coca è salita una persona disabile che voleva andare al Coca. Io non mi faccio promotore di nessuna persona, di nessuna disabilità. L'elicottero, ripeto, nelle nostre valli è usato solo quando serve. Poche volte, come dite voi, di fatti non avete parlato delle nostre valli ma avete parlato di Ardesio che è la prima volta che fa 15 giorni un volo turistico in elicottero. Non mi sembra il caso di distracciarsi le vesti perché credo proprio che non rovini l'ambiente. Credo che non siano queste cose che rovinano l'ambiente. Anzi, come ha detto Valotti, l'elicottero può far vedere la montagna anche a gente che non può usufruirne per varie problematiche. Anche l'anzianità. Non è che stiamo qua... Volete ribattere, altrimenti rilancio. Allora, un'altra cosa invece che sottolineava Cortile nel suo articolo è che forse oggi si sta un po' svuotando la montagna dalla sua essenza naturale e si sta un po' riducendo a un mero fondale scenografico. Questo magari anche quando poi si arriva all'illuminazione delle cascate, delle montagne e così via. È questo che sostiene? Io in generale vedo questa china un po' scivolosa. La teoria turistica oggi insegna dovete inseguire le emozioni, dovete stimolare, però è qualcosa che sta arrivando alla saturazione perché alla fine il turista deve essere sovrastimolato. L'esempio delle cascate è un po' un simbolo, però serve a far riflettere. Perché dobbiamo aggiungere nello stesso contesto, nello stesso evento, la cascata che di per sé comunque è uno spettacolo naturale bellissimo e non vedo perché bisogna farlo di notte illuminato. Ma comunque al di là dell'illuminazione si aggiungono i fuochi dell'artificio e la musica. Tutte cose anche belle, prese singolarmente, ma perché dobbiamo sovrabbondare, bersagliare di emozioni visive. Questo è certo che è una tendenza di una certa società consumistica attuale vista anche sul consumo turistico. Ma dobbiamo inseguirla a tutti i costi? Questo è quello che mi chiedo. Questo consumo spettacolarizzato, veloce della montagna, poi alla fine porta a non apprezzare più quelle che sono le risorse, le bellezze che possiamo offrire. E quindi tende a un immiserimento generale di quelle che sono invece delle offerte, io poi vorrei parlare della rete sentieristica di queste realtà. Ci arriviamo. Locatelli vuole commentare a quanto dice Corti? Ma sì, di fatto diciamo che in montagna tendenzialmente, anche vedere il modello di sviluppo turistico, si è cercato di adattarsi alle esigenze del turista piuttosto che fare un'offerta di qualità che attirasse un certo tipo di turismo. Se io voglio attirare un turista preparo un'offerta e se voglio che sia sostenibile rispetto alla montagna di un certo tipo. Qui si è sempre andato in una certa direzione e questi esempi che si sono fatti ricalcano quel modello di sviluppo. Quello che penso io è che il turismo adesso dobbiamo cambiare impostazione perché ce n'è la possibilità, perché c'è gente che sta investendo imprenditorialmente anche su forme di turismo alternative che non prevedono questo tipo di eccessi ma rispettano la montagna sono fatti di buon senso e creano indotto occupazione. Scegliere tra l'uno e l'altro io personalmente sono per un modello, quindi non capisco perché da noi non si possa fare. Ma appunto perché siamo in tempi di crisi, bisogna cambiare, bisogna cambiare modello perché il modello che siamo abituati a vedere a Bergamo, cioè seconde case in piante turistici è nato negli anni 60 con certe condizioni climatiche e con certe mancanze di sensibilità anche ambientale. Adesso bisogna prendere atto dei cambiamenti, bisogna adattarsi ai cambiamenti sia economici che climatici e di conseguenza fare delle scelte imprenditoriali sostenibili. Valotti è una modernità liquida che arriva poi a una spettacolarizzazione di tutto, anche dalla montagna. No, direi che assolutamente su questo il pensiero di Corti è giusto. la montagna per sé non deve essere spettacolarizzata, la montagna è spettacolo come natura, come opporto di agito, però credo questo, dobbiamo partire anche dalla concretezza, insomma di quello che è l'attenzione che dobbiamo porre sul fatto che se c'è gente come oggi, anche se a volte sempre meno, che vive in montagna, di montagna, dobbiamo partire da avere comunque la piena considerazione e creare le condizioni perché anche loro vivano in montagna, diciamo, con le pari opportunità possiamo dire che ha la gente in città. Pari opportunità non significa lo stesso modello. Io credo che i montanari di oggi, come può essere sicuramente sempre buoni, hanno la consapevolezza che l'ambiente è la loro prima risorsa che va valorizzata, che va curata, ma che giustamente deve diventare anche occasione per cui l'attività professionale e che abbia anche le soddisfazioni economiche che possono essere raggiunte. Per cui no alla spettacolizzazione, però la modernità è fatta anche di cambiamenti, di innovazioni che a volte comportano anche con delle forme che oggi non sono state conosciute come valorizzazione della montagna. Sempre buoni, in quanto si sente la crisi in montagna? In montagna la crisi si sente più che da altre parti perché il lavoro manca. Vorrei soffermarmi sul problema delle cascate notturne, visto che ero anche un organizzatore. La gente è salita, è stata contenta, ha avuto le sue emozioni, sia vedendo la cascata che sentendo gli zampognari, più che vedendo i fuochi artificiali. Però io mi chiedo, signor Corti, può essere che i fuochi d'artificio siano una cosa vecchia, ma mi può spiegare il perché? In tutte le città e in tutti i paesi vengono usati. È il caso di Sant'Alessandro, del patrono di Bergamo, hanno fatto una festa pirotecnica. Mi risulta che ci sia il parco dei colli, perché lei ha detto che dà fastidio agli animali, sia i fari che i fuochi d'artificio. Allora vorrei capire perché non riesco proprio a capire come fanno a dare fastidio ai camosci o ai caprioli e come fanno a non dare fastidio alle lepri o agli scoiattoli del parco dei colli. Dico o le cose non vanno bene e allora si tolgono, si eliminano, o se vanno bene non riesco a capire perché non debbano andare bene solo nel paese di Valbondione. Mi spieghi? Perché rimango basito, rimango basito. Intanto non è assolutamente vero che ho sostenuto questa cosa. Lì sostenevo… Sosteneva più che altro del concetto spettacolare. Esatto, portavo l'attenzione su questa sovrabbondanza di emozioni eccetera. Sui fuochi d'artificio non sono entrato, però posso dire che molte amministrazioni comunali stanno riflettendo in questo tempo delle crisi sulla incidenza economica, anche questa corsa agli spettacoli pirotecnici molto più in altri contesti. Fortunatamente la montagna era un po' meno colpita da questo fenomeno. Se andiamo sul lago di Como la cosa è eclatante. Ogni paese durante i mesi d'agosto fa degli spettacoli che hanno dei costi elevatissimi, tra l'altro. Ma perché anche, visto che già stanno un po' riflettendo in termini autocritici su questa corsa agli spettacoli pirotecnici e quindi i tempi di crisi vogliono giustamente ridimensionare? Perché dobbiamo portare anche in montagna in ritardo questo che è... Signor Corti, d'accordo. Allora non mi deve... Se mi parla a livello economico poi ognuno con i suoi soldi decide. Ma allora non mi può spostare il discorso da livello ambientale a livello economico. Mi sembra che non ha una linea retta. No, no, ma io... Ognuno, le amministrazioni che non hanno più i soldi è un altro paio di maniche. È un altro discorso. Corsi diceva che lui non era entrato proprio nel dettaglio. Sulla questione degli animali spaventati io non sono entrato. È stato Locatelli a sollevarla. Qualcuno è stato. Peraltro, posso... 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 No, su questa cosa... Direi che... Rispondendo, esatto. A parte che anche i cani in città. Io mi trovo d'accordo con Semperboni. Se vanno bene per tutto vanno bene per tutto. Se va male togliamoli. Io li toglierei dappertutto. Quindi sia a Valbondione che in città io toglierei i fuochi d'artificio. E per una questione economica e per una questione ambientale. Perché è comunque inquinamento acustico di fatto per gli animali. Che poi sia la sensibilità per gli animali sia minore o cosa. È un dato di fatto. Se a te non interessa che gli stambecchi piuttosto che gli scogliatoli ne soffrano per quell'occasione... Ma chi l'ha detto che ne so dove c'è un certificato ma stiamo scherzando? Sono d'accordo con te. Aspetta, togliamoli dappertutto. E' quelli che lavorano sui fuochi artificiali come quelli che lavorano con l'elicottero. Cosa li mandiamo a fare? Ma scusate, ma scusate. Sentiamo anche Valotti che abbiamo lasciato in ascolto. No, no, ci mancherebbe una riflessione, una considerazione. Comunque diciamo un attore che va aggiunto alla discussione del fatto che comunque sono iniziative che si svolgono all'interno del parco regionale dell'Europa Bergamasche. Che comunque ha autorizzato questo tipo di iniziative. Io credo che, no, con rispetto delle sensibilità e delle conoscenze di ciascuno, credo che al parco ci siano anche le figure adeguate per valutare gli impatti di l'ambientà, le incidenze di queste iniziative. e se ritiene di aver dato, di dare l'autorizzazione, vuol dire che comunque le ritiene, diciamo così, sostenibili per i limiti, per i tempi, per le forme con cui vengono proposte. Il parco Robi ha utilizzato anche la pista del sole. E poi si può avere un'opinione diversa al parco Robi, no? È possibile avere un'opinione diversa? Ma l'ha fatto, vuol dire che ha fatto le sue valutazioni. Infatti è sul sottoprocesso. Se poi andiamo sulla pista del sole, ne andremo anche a dire. No, ma non parliamo un'altra volta. Allora, noi ora ci fermiamo per una breve interruzione pubblicitaria, ma torniamo subito, a tra poco. Ultimo passaggio di questa trasmissione. Ci siamo occupati dell'utilizzo dell'elicottero in montagna, dell'illuminazione, per esempio, delle cascate e delle serie. Ora continuiamo con altri mezzi meccanici, le moto e i quad corti. Anche qui ne abbiamo da dire. Sì, innanzitutto, il mio interesse per tutta la faccenda è nato proprio dall'uso dei mezzi motorizzati. Nell'ambito di uno studio che ho fatto, tre anni fa, per l'IREALP, l'Istituto di ricerca alpina della regione Lombardia, che poi è stato chiuso, sulla potenzialità turistiche di questo comprensorio. Dallo studio è emerso che buona parte della rete sentieristica era inagibile o poco utilizzabile sia per la percorrenza pedonale e soprattutto per la percorrenza con le mountain bike per via dei solchi, dei danneggiamenti prodotti dal transito illegale, perché si tratta di viabilità agro, silvopastorale, per la quale la legge regionale prevede che la circolazione dei mezzi a motori non autorizzati è proibita. E questo è già un fenomeno che ritengo grave, perché oltre a non attirare un certo turista che si vede sfrecciare le moto, oltre a danneggiare la rete sentieristica e impedire che le biciclette transitano, questo fenomeno porta anche un danno economico agli enti che sono responsabili dalla manutenzione di questa rete viabilistica, i vari comuni, il consorzio forestale eccetera eccetera. Porta anche degli inconvenienti agli alpeggiatori, perché io ho visto delle piste sul Monte Pora completamente danneggiate, dove l'acqua in questi solchi scavate dalle ruote delle moto prende a cuore, erode il materiale e quindi rende inagibile neanche la percorrenza con un mezzo fuoristrada degli alpeggiatori. Quindi la questione non è così, non stiamo parlando solo di principio, di impatto del rumore, di fastidio alla farma selvatica che pure ci sono, ci sono anche dei danni economici, economici per chi fa il boscaiolo, per chi fa il pieleggiatore e danni economici per il territorio, perché è una certa potenzialità di turismo che sarebbe interessato a questa importante bella rete sentieristica, un comprensorio che ha un tiro di schioppo dall'aeroporto di Oral Serio, che ha delle grosse risorse di visioni sul lago di Zeo, la Presolana eccetera, questo turismo non viene valorizzato un po' perché la rete sentieristica, la segnalettica, la cartelonistica sono assolutamente carenti, ma anche perché c'è questa interferenza di questo utilizzo di mezzi meccanici che sarebbero per le norme regionali vigenti del tutto escluse. La cosa più grave è quando questo utilizzo di mezzi meccanici è organizzato da imprenditori turistici che sistematicamente organizzano delle escursioni su delle piste forestali dove ci sono bei cartelli di divieto. Loro cartelli? Sì, l'analisi fatta assolutamente veritiera, io aggiungerei il fatto che gli enti preposti, soprattutto provincia e parco Europa potrebbero potenziare l'organico di controllo di questi che possono essere pochi induristi piuttosto che pochi motociclisti che praticano dell'illegalità ma fanno dei danni enormi, quindi senza entrare nel merito gare di motociclisti piuttosto che no, il vero cancro tra virgolette sono quei pochi che illegalmente contro quindi la legge vanno a deturpare il territorio. Valotti, meglio i puristi dello scarpone? No, diciamo questo, parlando della rete sintetese che effettivamente è uno dei mezzi più importanti di promozione turistica, a volte ancora più del rifugio, nel senso che per arrivare ai rifugi bisogna comunque camminare su qualche sentiero, sicuramente il problema dell'impatto di pochi, diciamo così, fuori legge che comunque infrangono legge del divieto di transito motorizzato sui sentieri in montagna, crea spesso dei problemi che paga tutta la collettività, è vero che a volte manca però anche una gabina di regia, nel senso che di regia in termini di attenzione, di manutenzione dei sentieri perché oggi sopra una certa quota credo che la realtà più attenta e più concreta nella sistemazione della rete sintetistica è ancora il volontariato del Club Apino Italiano. Sempre Boni, ci vorrebbe una bella rete, un bel percorso proprio idoneo per queste moto? No, lì mi trovo d'accordo con gli ambientalisti perché visto che ci sono questi divieti vuol dire che le moto comunque qualcosa deturpano, visto i divieti hanno ragione a lamentarsi, penso che questo sia un problema delle nostre montagne. Direi che per risolverlo si potrebbero far girare le famose guardie ecologiche invece che far passare i bufobufo sull'autostrada venissero a vedere chi deturpa l'ambiente, questa è una cosa che devono impegnarsi loro. Allora Corti, un altro tema di cui si è interessato, ovvero la ferrata sulla Presonano, una proposta che è stata lanciata, ce ne vuole parlare? Questo è un tema che io ho inserito nel contesto, diciamo che io mi occupo della montagna fino a una certa quota che è quella dei pascoli, quindi mi occupo di escursionismo e di agriturismo eccetera. Ho fatto anch'io un po' l'alpinismo, poco, però sicuramente ritengo che le critiche che sono state fatte sul rischio che comporta un aumento, soprattutto per il tipo di numero di cordate, soprattutto per il tipo di roccia di cui è costituita la presolana sia un argomento forte. Quindi già sulle Dolomiti vediamo certe situazioni paradossali dove l'estate c'è la coda, bisogna regolare il traffico e si creano anche situazioni di eccesso di traffico. Dal mio punto di vista, voglio semplicemente dire questo, anche qui favorendo le ferrate sulle montagne più famose si consenzia una funzione un po' spettacolare di alcune zone. Poi abbiamo talmente zone che sono del tutto deserte. Io a ferragosto ho girato diversi sentieri dell'altra Labrembanna, ho incrociato più moto che escursionisti e questa è stata anche la molla, insieme a alcune sollecitazioni di amici qui della Vassariana, a fare questo intervento. Quindi dico, la ferrata in sé non è una cosa terribile, però è un modo di aprire e concentrare l'attenzione solo su certe zone, lì si crea magari anche situazioni di pericolo, mentre noi abbiamo tantissime altre belle montagne di ogni tipo di grado, di difficoltà che gli alpinisti potrebbero fare e restano del tutto ignorate. E anche qui è un discorso di educazione ad una fruizione più diffusa, più sostenibile, che si concentra meno e quindi dà meno impatti. Valotti? La ferrata come mezzo di percorso in sicurezza non è per definizione un inconveniente, un male della montagna. Sono state citate le Dolomiti, dove le ferrate rappresentano un mezzo importante di attività per escursionisti, ma anche uno strumento significativo per attività professionali, fatto dalle vide alpine, da chi è abilitato ad accompagnare la gente. Quello che conta è il come viene realizzata una ferrata e su questo, giusto per citare un altro esempio, dove per esempio proprio la Francia, che è comunque nota per non avere la tradizione comunque alpinistica della montagna come Alitalia, ha utilizzato e utilizza lo strumento della ferrata realizzate sfruttando la conformazione, le conformazioni naturali della montagna, ma con particolari criteri di sicurezza e che rappresenta effettivamente un volano di attività nei luoghi di montagna particolarmente significativo. Questo anche qui non significa spettacolarizzare, non significa concentrare su un percorso solo la gente che va in montagna, ma può essere anche visto un mezzo per far crescere la consapevolezza e la sicurezza in montagna con i criteri con cui questi strumenti vengono realizzati. Con in più una cosa che credo questo sia un aspetto che a volte disturba e non è facile rispettare proprio per la gente che come dicevo prima vive di montagna in montagna. Le persone che sono fuori dal mondo della montagna, ma che comunque lo vivono e lavorano per la montagna, come a volte possiamo essere noi cittadini, diventa veramente difficile a volte, così a volte anche, mi permette di dire un po' presuntuoso, andare a proporre, a dire alla gente che vive di montagna in montagna qual è il modello di sviluppo che loro devono seguire. Bisogna invece dare delle indicazioni, dare delle informazioni, ma credo che su questo il rispetto della gente, delle persone, come si è sempre detto, deve passare anche da questo. La gente di montagna ha bisogno, ma credo ha anche le capacità di capire qual è il modello più adeguato di sviluppo di rispetto e di salvaguardia che l'ambiente di cui loro vivono quotidianamente. Locatelli? Sì, qui non si sta cercando di imporre un proprio punto di vista. Qui si ha un'idea, nell'ambito delle varie idee che possono essere espresse, l'idea che ho espresso del diverso modello di sviluppo è un input che si lancia, anche perché concretamente con l'associazione in cui faccio parte, cioè noi Alpi, proprio in montagna, può essere Mezzoldo, siamo a Valcanale o a Castione, abbiamo studiato dei progetti destinati, residenziali destinati alle scuole, quindi noi portiamo le scuole in montagna, gli facciamo vedere il territorio, facciamo le tue del territorio, facciamo conoscere cos'è la montagna e i ragazzi in città che non conoscono per niente la montagna hanno occasione di vedersi la montagna. Per noi questo è uno scopo didattico, per l'albergatore che ci ospita è anche indotto, è anche economia e sono contenti di vedere noi ambientalisti quando li portiamo le scuole a fare questo tipo di esperienze, quindi non è che arriviamo dalla città perché non sappiamo nulla o perché vogliamo imporre il nostro modello di sviluppo, vogliamo dare il nostro contributo perché abbiamo anche noi la montagna, perché ci teniamo e perché io sto male personalmente quando in montagna vedo delle cose che a me non vanno, quindi propongo, faccio delle proposte concrete che da anni vengono sperimentate, che creano indotto e occupazione anche e di cui ho riscontro da parte della gente che vive e lavora in montagna. Allora, vogliamo chiudere questa trasmissione con un giro di proposte, Corti? Torno al tema della rete escursionistica, è una bellissima infrastruttura che ci hanno consegnato le generazioni passate, ma ha una sua multifunzionalità, serve per gli sport, serve per alcune categorie professionali, i malghesi, i boscaioli, è un'infrastruttura che è stata poco valorizzata, dobbiamo un po' prendere esempio dalla Svizzera dove la rete sentieristica è stata inquadrata in un catastro nazionale, dove ogni sentiero ha una preciso ente di riferimento per la manutenzione e dove l'escursionista sa con certezza che questa rete è in condizioni di percorribilità e di sicurezza. Quindi c'è questa infrastruttura che ha un grandissimo valore, dobbiamo solo tenerla in manutenzione e con una spesa minima, con il segnavia, la sentieristica. Poi ci sono le malghe che sono un altro grosso lascito del passato, metà malghe sono abbandonate, in altri casi ci sono solo animali da carne, la malga è una grossa attrazione turistica, non dobbiamo inventare niente, c'è già il cittadino che viene dalla città, ma anche chi vive a Clusone, che ha perso un po' un contatto diretto con gli animali, con la lavorazione del latte, ha questo grosso punto di riferimento durante l'estate per tornare a conoscere e apprezzare queste cose, con dei piccoli iniziative di comunicazione, di messa in rete, queste realtà che esistono già, la malga, la rete sentieristica, creano già un grosso offerta turistica. La proposta per quanto riguarda la nostra associazione è promuovere il turismo scolastico sulle nostre robie, questo vuol dire che a livello provinciale si potrebbe fare comunicazione alle scuole per dire che ci sono dei laboratori con dei paesi già identificati in montagna dove si può andare a fare scuola sul territorio, scoprire il territorio, fare indotto, conoscere i prodotti del territorio, comprarli anche e quindi dare un aiuto concreto e tangibile all'economia locale. Valotti? Credo che una prospettiva potrebbe essere quella di avvicinare la città alla montagna e la montagna città proprio per conoscersi, per capire le esigenze reciproche, in particolare quello che diciamo tutti essere l'ambiente naturale che vorremmo vivere. Sicuramente un mezzo importante per avvicinare la montagna città è questa rete sentieristica che è certamente una ricchezza, un patrimonio comune, un bene comune ereditato dal passato che dobbiamo cercare di mantenere e migliorare, ma credo che a questo livello non si possa, o meglio è necessario l'intervento anche del ruolo diciamo così politico che i nostri amministratori hanno a partire, se parliamo della bergamasca, dalla nostra provincia di Bergamo. Oggi non esiste in Bergamo un catasto, un elenco aggiornato della sentieristica come bene pubblico, anche se esiste tutto quello che è il lavoro che il mondo del volontariato del club italiano ha comunque fatto fino ad oggi, ma oggi questo patrimonio non è sufficiente essere mantenuto, essere portato avanti da una realtà o da altre realtà associative, ci vuole sicuramente anche un soggetto politico che deve fare da regia rispetto alle diverse esigenze, rispetto alle diverse possibilità per mantenere e salvaguardare questo patrimonio dei sentieri. E' sempre buono? Io credo che se la montagna è così appetibile anche per i cittadini e per i vari ambientalisti, credo che la stragrande maggioranza del bene della montagna la facciamo noi che la viviamo, quindi vorrei tranquillizzare tutti i vari cittadini, la montagna noi la viviamo e non abbiamo nessuna intenzione di distruggerla, non abbiamo altresì l'intenzione di essere trattati come gli indiani d'America nelle riserve, questo non lo vogliamo assolutamente. Allora, chiudiamo così quindi la nostra trasmissione, ringraziamo i nostri ospiti, chi ci ha seguito in regia e alle camere, ma tutti voi per la vostra gentile attenzione. Grazie e buono il proseguimento di sera.